Alvinga le porte e non manca ancora moltissimo per andare a fare un nuovo massimo per quanto riguarda Bitcoin. Ciao a tutti sono Dista e bentornati su Mindchart. Se andiamo a vedere il grafico di Bitcoin capiamo un po' quello che sto dicendo. Ci stiamo stringendo su settimanale ma non manca moltissimo per andare a rompere i 73.600. Voglio sapere un po' voi quali piani avete? Nel senso il piano nel caso continuiamo a salire? Quali sono i vostri target? Qual è la vostra exit strategy? Perché è molto importante arrivati a questi livelli capire un po' anche il piano d'uscita. Perché teniamo sempre a mente non possiamo e non potremo continuare a salire all'infinito per quanto riguarda Bitcoin ma anche per molte altre altcoin. Poi chiaramente ci sono altcoin che hanno una presection abbastanza distrutta e non è detto che quella altcoin andranno a riprendersi al 100%. Chiaramente adesso ci soffermiamo su Bitcoin e sarebbe interessante sapere qual è la vostra exit strategy. Il mio target per Bitcoin sono gli 80.000 dollari come prossimo target. Chiaramente in tutta questa bull run ho continuato a scaricare e andrò avanti a scaricare. Se noi vediamo sul time frame giornaliero stiamo vedendo proprio che ci stiamo stringendo vedete in maniera abbastanza aggressiva qua non manca moltissimo per una rottura se lo vediamo guardate bene stiamo arrivando alla fine di questa wedge e secondo me arriveremo in concomitanza con l'alving. Ovviamente da qui nessuno sa nulla nessuno sa se si sale o si scende però possiamo andare un po' a capire l'andamento. Secondo me ci sono ancora le carte in regola per andare a fare un'altra leg up per quanto riguarda Bitcoin. A tutte le carte in regola ancora Bitcoin se noi andiamo a vedere il ritracciamento Fibonacci dallo swing low allo swing high siamo ancora sopra lo 0.23 Fibonacci. Ancora in una bull flag settimanale quindi nessuna red flag se rimaniamo in queste zone Bitcoin potrebbe ancora avere forza per continuare la salita. Chiaramente quando siamo in blue sky breakout non abbiamo dei target precisi perché siamo in price discovery quindi è tutto in divenire e non possiamo andare a fare delle previsioni. Mi raccomando sotto in descrizione fatemi sapere un po' le vostre strategie i vostri pareri per confrontarci un pochettino e fatemi sapere anche quale altcoin detenete perché sotto in descrizione quando voi mi scrivete poi ogni tot andiamo un po' a riprendere l'alcoin che voi ci chiedete. Inoltre voglio anche ricordarvi di una promozione per chi fa trading che riguarda Bybit. Sì perché è tornata la mega promo di 200 USDT di posizione perché se depositerete 100 USDT avrete 200 USDT di posizione per fare trading o su Bitcoin o su Ethereum o su MNT e quindi avrete in totale 300 dollari di posizione e tutti i profitti possono essere prelevati. Inoltre con Bybit avrete anche il meno 30% di scontavita sulle trading fees. In ogni modo troverete questa promo a scadenza sotto in descrizione. E tra di tante cose ci sono anche dati molto interessanti per quanto riguarda il mercato per quanto riguarda Bitcoin. Sì perché secondo un recente sondaggio uno su cinque adulti americani possiede cripto e il sondaggio ha rivelato che i giovani americani sono più propensi a possedere cripto rispetto alle azioni segnalando un cambiamento nella scelta degli asset finanziari e chiaramente anche nelle strategie di investimento rispetto comunque al passato e alle generazioni precedenti. Questo cosa va a significare? Che i giovani vogliono prendersi maggiormente rischi finanziari rispetto alla vecchia leva. Ma secondo me è anche perché un giovane ha molto meno denaro e quindi avendo molto meno denaro con le criptovalute vedono secondo me uno spiraglio di luce rispetto a un mercato tradizionale che ci vogliono molti più soldi. Poi ovviamente non è perché uno ha pochi soldi deve andare a rischiare maggiormente di uno che ne ha di più però di solito chi ha tanti capitali e quindi ovviamente una persona adulta o anziana ha più capitale in teoria rispetto a una persona giovane e ovviamente se uno vuole proteggere il capitale le cripto non è che sono proprio il mercato più sicuro del mondo. Secondo me questo sondaggio va preso sotto questo punto di vista. Inoltre abbiamo afflussi record per gli ETF bitcoin perché abbiamo visto il secondo giorno consecutivo di afflussi netti per gli ETF di bitcoin statunitensi con più 91 milioni di dollari nonostante un deflusso di 125 milioni di dollari da GBTC. In totale gli ETF bitcoin degli USA hanno acquistato circa 1300 bitcoin e quindi questo è un dato ancora molto molto interessante che stiamo vedendo. E comunque questi dati sono sempre interessanti e vanno presi in considerazione per la long run. Inoltre sempre rimanendo in tema di ETF spot si dice che le tariffe di GBTC scenderanno perché il CEO di Grayscale Michael Sunshine ha dichiarato che le commissioni del bitcoin ETF di Grayscale altamente più alte tra i concorrenti diminuiranno solo quando i prodotti inizieranno a maturare quindi nel lungo termine. Lui tra le tante cose ha detto che il mercato di bitcoin è ancora in una fase abbastanza iniziale di adozione di crescita e quindi ci vorrà un pochettino di tempo. Come già abbiamo visto ieri Uniswap sotto inchiesta per quanto riguarda la SEC e quindi vediamo che la SEC sta incominciando anche a intervenire lato DeFi e questo comunque non è un ottimo segnale. Quindi maggiore adozione ma anche maggiori regolamentazioni e se andiamo insieme a vedere il grafico di Uni stiamo vedendo che ha subito un duro duro colpo. Ha perso il trend sul settimanale rompendo i 10.29. Questo è un nome che se bitcoin mi va a crollare chi è dentro Uni si farà molto male perché comunque queste news non fanno mai bene. Diciamo che Uni è uno dei pochi nomi che è già andato in considerazione mensile per quanto riguarda queste news. E quindi staremo un po' a vedere se Lema 1226 faranno da supporto. E rimanendo in tema Solana parlando di DeFi stiamo vedendo che i prelievi del protocollo DeFi basato su Solana MarginFi hanno raggiunto livelli record a seguito di una crisi di gestione e delle accuse dei concorrenti secondo cui non ha mantenuto le sue promesse. E infatti il CEO di MarginFi Edgar Pavlosky ha annunciato in maniera inaspettata le sue dimissioni seguite da accuse di cattiva condotta da parte dei concorrenti. E chiaramente quando succedono queste cose sempre sempre molto panico. Se andiamo a vedere Solana che molti di voi mi hanno chiesto comunque vediamo che non siamo ancora dati in oltre mai però Solana è uno di quei nomi molto molto forti che potrebbe secondo me andare in oltre mai quindi andare a bucare i 250. Secondo me le carte in regola per il prossimo futuro. Se Solana andiamo a tirare il tracciamento Fibonacci così abbiamo maggiore chiarezza dallo swing low allo swing high abbiamo ritracciato solo 0.38 quindi ha ancora un potenziale bull flag settimanale. Invece per quanto riguarda Chainlink abbiamo visto che ha lanciato un'applicazione per il trasferimento di cripto e messaggi tra blockchain basata sul suo protocollo di interoperabilità cross chain. L'app si chiama Transporter ed è stata sviluppata in collaborazione con la Chainlink Foundation e la Chainlink Labs e questo va a permettere di effettuare transazioni cross chain in modo sicuro e semplice. Al momento da come ho letto un po' in giro supporta il trasferimento di token su diverse reti blockchain senza costi aggiuntivi. E se andiamo a vedere un po' la pre-section di Link Chainlink stiamo vedendo che anche qui ci stiamo comprimendo cioè si vede molto molto bene. Se andiamo a tirare anche quei fibonacci per quanto riguarda Chainlink dallo swing low allo swing high stiamo vedendo che la consolidazione è maggiore e quindi non siamo più in una bull flag settimanale. Lo eravamo sopra lo 0.38 comunque se andiamo a vedere c'è il link sul time frame mensile siamo ancora messi abbastanza bene un supporto importante mensile sono i 16.23 che non dobbiamo andare a rompere. Comunque per tutti questi nomi che sono ancora lontani dall'oltre mai bisognerà vedere se avverrà una vera rotazione dei fondi. Andiamo a vedere anche varial coin che mi avete segnalato andiamo a vedere VET un po' come si sta comportando e sul mensile si vede siamo in alto mare nome debolissimo non ha fatto nulla vedete e siamo in multiple insambarare sul time frame mensile. E questo è un nome che se Bitcoin mi dumpa va nel dimenticatoio perderà un sacco ci stiamo stringendo anche sul time frame settimanale quindi non siamo messi per niente bene per quanto riguarda VET assolutamente assolutamente è un nome molto debole ci stiamo stringendo e secondo me anche qui la rottura avverrà in concomitanza con la pre-section di Bitcoin. Ormai Bitcoin sta tenendo le redini e finché la dominanza non passa sulle altre perché di solito quando Bitcoin lateralizza le altcoin volano ma la Bitcoin dominance non vuole saperne guardate sul mensile e quindi al momento no altcoin season. E molti bag holders di altcoin come per esempio VET e non è che sono molto felici ma anche Atom guardate qui che pre-section cioè non c'è molto da dire un nome che è distrutto. Questo nome se Bitcoin corregge potrebbe testare ancora i minimi che ha fatto nella precedente bear market. Agix invece vedete è un nome forte che è andato in oltre mai ha presentato l'oltre mai a 1.46. Meme, intelligenza artificiale, nuovi lanci sono andati abbastanza bene. Altri nomi come per esempio Atom, VET poi unico in questa cosa che è successa è un nome molto molto debole da starci lontano secondo me. Quindi vedete Agix nome che secondo me potrebbe andare nuovamente in oltre mai perché non è perché un nome è salito tanto dovrà scendere maggiormente di un nome che non è salito. Questa è una cosa che dobbiamo tenere a mente. Ci sono nomi deboli che continueranno a scendere e perdere più percentuali di nomi forti. FTM altro nome che se lo vediamo sul time frame mensile non è messo stra benissimo rispetto al precedente oltre mai. Si ha fatto qualcosa nell'ultimo mese però vedete è ancora molto lontano all'oltre mai e quindi chi deteneva FTM non è detto che è tornato già in pari perché dipende come l'ha scalato e come l'ha comprato. Tutto sommato anche qui abbiamo fatto una consolidazione settimanale e ora stiamo cercando di recuperare siamo lì in 6 bar. Ma tutto sarà in mano di Bitcoin lo stesso vale anche per AXS vedete questo è un nome distrutto. Non c'è molto da dire. Questi qua sono nomi che moriranno se Bitcoin corregge in questo momento. Lo stesso vale anche per Ape. Guardate qui Apecoin. Vedete che comunque non tutti i nomi sono saliti come Solana. Poi ci sono moltissimi altri Alcoin che sono salite. Io vi sto facendo vedere l'Alcoin che stiamo trattando nel video. Guardate Bitcoin. Cioè l'Alcoin season vera non è avvenuta. Potrebbe arrivare perché no non è detto che non arriverà. Però al momento andiamo a leggere e vedere quello che ci danno i grafici. Quindi non possiamo andare a speculare su cose che non sono ancora avvenute. Quindi rimaniamo sempre coi piedi per terra. Mi raccomando fate un salto sempre sul mindechart.io perché su mindechart.io ci sono un sacco di news dati in tempo reale. Inoltre voglio anche ricordarvi che stiamo facendo l'airdrop di WB che sarebbe l'airdrop del Big Tech Wallet. Direttamente sul nostro gruppo Telegram gratuito Missione Spazio. Siamo quasi 1800 utenti. Quindi se volete fate un salto perché troverete tutti i link in descrizione. E in descrizione troverete anche tutti i link per i migliori trading bonus sul mercato. Io con ciò ho concluso. Vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo domani al prossimo cripto appuntamento.